Mister Giardina si viaggia con un ritmo impressionante, quattro vittorie di fila, questo canichetti sta mostrando la propria identità con un buon roster, un roster di ottimo livello e siamo lì nella parte alta della classifica con le squadre e classifica corta. Sì, adesso siamo in un buon momento, questa è la quarta vittoria consecutiva, quindi adesso dobbiamo continuare così, dobbiamo dare il massimo perché il campionato in questo momento ci vede cinque squadre raggruppate in cinque punti, quindi innanzitutto fa notizia anche la seconda sconvitta della capolista al bagheria e di conseguenza adesso non si punta più magari solo a un posto di playoff, però diciamo quelle quattro o cinque squadre come il Villauria, il Partenico, il Redentino e anche noi possiamo ambire anche a crederci e puntare anche a vincere il campionato. Ecco, praticamente col campionato si è rieperto anche grazie alla vittoria che voi avete fatto sulla capolista bagheria che adesso ha perso nell'ultimo turno, però ecco questo dimostra che non tutto è dato per scontato, anche se il bagheria resta comunque la squadra favorita per il salto di categoria. Sì, sicuramente il bagheria rimane comunque sempre la squadra da battere perché insomma c'è un roster veramente importante con giocatori che hanno militato in campionato nazionale, però naturalmente adesso il Partenico è un punto, il Redentino pure siamo là, noi il Redentino siamo, le squadre siamo più vicine insieme anche al Villauria e adesso diciamo in questo giorno di ritorno si andrà a vedere poi in tutti questi scondri diretti cosa succederà, può accadere di tutto, quindi noi naturalmente ci crediamo, ci crediamo e dobbiamo cercare di continuare così il nostro cammino. Adesso diciamo che la prossima settimana c'è la pausa perché ci sarà la Final Four a San Cataldo, quindi diciamo avremo modo anche noi di poter allenarci un po' meglio, recuperare chi non sta tanto bene, anche perché diciamo negli ultimi tre settimane causa chiusura del palazzetto diciamo non ci siamo allenati molto bene, quindi diciamo che questa settimana servirà a tutti per riprendere tutti diciamo lo stato di forma per magari qualcuno che si è allenato poco. Nel frattempo arriverà anche i lucchesi per rafforzare la batteria degli under e quello diciamo rimane comunque un nervo scoperto, visto che Cani è andato via insomma e manca qualche under. Sì diciamo che abbiamo sofferto più questa cosa perché diciamo come under abbiamo avuto solamente Francesco Mongata che ha fatto benissimo, anche Giovanni Farsone, però naturalmente adesso che con il rientro del nuovo acquisto che ancora purtroppo per motivi salterà ancora un'altra giornata di squalifica, Vincenzo Lucchese, Vincenzo Lucchese è un altro ragazzo che è un giocatore fortissimo, di qualità eccelse, quindi sicuramente di questo ne soffrò tutta la squadra. Nel frattempo quindi diciamo che ora dobbiamo continuare così, dobbiamo cercare sempre di lavorare, testa bassa, continuare insomma già preparare già da adesso la prossima sfida con lo Sporting Alcamo fuori casa. A proposito di giovani, riparte il campionato Juniors, squadra affidata a Gianni Fontana, come sta andando anche questa esperienza che per la prima volta la società sta facendo? Diciamo che è un gran successo perché avere una squadra al primo anno, l'altro giorno ero lì presente insieme a Gianni Fontana, al Mister, vedevo che c'erano più di 16 ragazzi quindi diciamo sta avendo un grosso successo, per noi è un motivo d'orgoglio e tra l'altro due dei nostri ragazzi, Emanuele Gallo e Giuseppe Orlando, il portiere, sono stati convocati nella rappresentativa regionale di Fussal, quindi per noi diciamo è un orgoglio avere lì, quindi significa che il movimento sta crescendo, per noi non lo nascondiamo, questi ragazzi deve essere il nostro futuro e che insieme poi magari a qualche giocatore esperto devono essere diciamo un cambio generazionale per poter fare bene e poter andare avanti negli anni.